Sconcerto e dolore a Villa Dossola per la morte di Yuri Fabio Rossi, l'automobilista di 46 anni, vittima sabato sera di un pauroso incidente stradale, successo all'altezza dello svincolo della superstrada Villa Beura-Cardezza. Rossi risiedeva con la moglie a Villa Dossola nel popoloso villaggio Sisma, frontaliere di professione. Cuoco era occupato in un locale nella vicina Svizzera. L'incidente si è verificato attorno alle 22 di sabato lungo la strada provinciale che collega Villa allo scallo di Domo 2. Per causa del vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia, l'auto del Rossi, una Renault Magana, è finita contro il muro in cemento del cavalcavia della statale. L'impatto non ha lasciato scampo all'ossolano, scattato l'allarme, la macchina dei soccorsi si è messa in moto, vani, tentativi di rianimare l'uomo da parte dell'equip 118. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Domo Dossola sono stati pompieri ad estrarre dalle lamiere dell'autovettura il corpo dell'automobilista. Sfortunata la famiglia Rossi che solo due anni fa ha pianto la scomparsa prematura del giovane figlio appena 18enne.